Dal 1 al 30 luglio all'area megalitica di Aosta si potrà visitare un'isposizione dedicata ai 50 anni del primo sbarco sulla Luna. Si apre presso l'area megalitica di Aosta il mese della Luna, ovvero una serie di eventi di divulgazione scientifica dedicati al cinquantenario del primo storico allunaggio avvenuto il 20 luglio 1969. Fino al 30 luglio sarà possibile visitare un modello del razzo Saturno V riprodotto in scala 1 a 10 e del modulo di comando Columbia che ospitò l'equipaggio dell'Apollo 11 riprodotto in dimensioni reali. Gli esemplari sono stati realizzati dall'associazione italiana Modelli Fedeli. Dimensioni sono diciamo identiche all'originale a livello di centimetro o millimetro e abbiamo cercato di anche portare l'ambiente interno a quello originale, la colorazione delle luci, il posizionamento delle luci interne, la parte anche dell'audio in cui si sentono i colloqui con la base di Houston. Tutto quanto è stato fatto proprio per riprodurre proprio l'ambiente esterno ma soprattutto interno della capsula. I visitatori potranno entrare nella capsula, sedersi al posto degli astronauti e vedere da vicino un frammento di meteorite proveniente dalla superficie lunare. Abbiamo qua un'atmosfera a dir poco lunare ma abbiamo voluto rincarare la dose portando appunto un frammento della superficie lunare in esposizione vicino al modulo del Columbia. Importantissimo per non ricordare questo punto di partenza che all'epoca fu vissuto un po' come un punto d'arrivo ma che per tutti noi in realtà è un punto di partenza straordinario per la ricerca di base, per la ricerca tecnologica e per la space science in generale.